La lunga serata dell'elezione del nuovo Papa inizia alle 19.06, quando dal comigno della Cappella Sistina esce la tanto attesa fumata bianca. Poco più di un'ora dopo, dal balcone di San Pietro, si affaccia il Cardinal Turan, che pronuncia la fatidica formula. La folla, radunata in piazza San Pietro, sembra non cogliere subito chi sia il nuovo pontefice, forse aspettandosi altri nomi, come già accaduto nel 1978 con l'elezione di Voitila. Poi però si comincia a capire e i fedeli commentano la scelta dei cardinali. E ho sentito Bergoglio, un Papa argentino, una terra diciamo povera, quindi questo depone bene. L'importante è che non faccia parte della curia. Il Papa quindi si affaccia con la veste bianca e si presenta al mondo. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. E in piazza spuntano le bandiere argentine. La Chiesa, con menta entusiasta un fedele argentino, ha scelto un uomo che dovrà compiere tutti i passi necessari. Noi possiamo dire solo questo, siamo qui per accompagnarlo in questa missione. Festa dunque, anche se in certi momenti questa appare misurata come le parole del nuovo pontefice. Forse i romani aspettano di conoscere meglio il primo Papa non europeo della storia.